Se c'è una cosa che so è che il successo dipende dallo slancio. In tribunale, prima di poter vincere, devi credere di poter vincere. Ma se non puoi vincere? Allora devi fingere finché non ce l'hai. È vero che la chiamano l'avvocato della Lincoln? Sì, alcuni lo fanno. Perché? Lavoravo per lo più in macchina. Ma non l'ho convocata per questo, Jerry Vincent. Le ha lasciato il suo studio, compreso il processo a Trevorelli. Informatico che ha ucciso la moglie e l'amichetto. Presumibilmente. I controlli sono andati bene, avvocato di successo, migliori di Jerry. Finché non è andato fuori di testa. Credi che papà stia bene? Sono preoccupata anch'io, tesoro. Rivolgo la nostra famiglia. Però un passo alla volta va bene. Ti stava seguendo. Lei è in pericolo, avvocato. Crede che tu sappia qualcosa. Che cosa? Dove vai? Penso meglio per strada. Qui sta accadendo qualcosa di molto strano. Mi sfugge qualcosa. Non fare domande di cui non vuoi conoscere la risposta. Tu stai rischiando almeno quanto me. È la tua unica occasione. Perciò sfruttala. Tutti mentono. Ma persino i migliori bugiardi si fanno scoprire. È morta della gente. Magari tu e io siamo i prossimi. Deve stare qui tutti i giorni. Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Non si è ancora abituato a non vedermi in giro per casa? Grazie a tutti.